Baseball per tutti, il primo torneo di Slow Pitch Memorial Luigi e Angelo Minucci, si giocherà domenica 3 luglio sul Diamante Minucci, ex Gesuiti di Pescara. Ricordo di due fratelli del giornalista e noto promotore di eventi abruzzese Paolo Minucci. Erano i miei fratelli, coloro che hanno portato il baseball alla disciplina del batti e cori in Abruzzo nel lontano 1975. Persone purtroppo prematuramente scomparse e allora un gruppo di amici hanno deciso di organizzare un torneo di Slow Pitch proprio per ricordare sul Diamante dei Gesuiti di Pescara che porta il nome Diamante di Gioco Luigi Minucci per convocare tutte quelle squadre che sono state direttamente o indirettamente vicine quando era in vita Luigi Minucci. Quindi per ricordare questi due personaggi Luigi e Angelo Minucci che hanno dato una vita sportiva alla pratica del baseball. E poi vogliamo ricordare tutti gli ex giocatori dell'Abruzzo, Francavilla, Sulmona, Lanciano, Pescara, Chieti. Sono tutte squadre che hanno giocato contro Luigi e con Luigi, sia Luigi che Angelo. Un evento sportivo che non lascia indifferenti pitcher e catcher non solo del Pescara Baseball che li conobbero tra gli anni 70 e 80. Le squadre sono sei, ci sono tutte squadre abruzzesi tranne una che è il Nettuno, abbiamo quindi un ospite esterno per questo primo Memorial. Saranno due gironi all'italiana, le prime due squadre andranno direttamente in finale e speriamo di essere noi, il Pescara, appunto in memoria dei due Minucci, a essere noi a giocarci la finale. Sarà un bel evento di sport, annunciato in conferenza stampa l'assessore Patrizia Martelli, importante anche per la promozione e la diffusione di questa pratica tra i più giovani. E magari far invogliare i tanti ragazzini che non sanno quale sport dover scegliere per il prossimo anno a giocare a baseball con noi.